Sì ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio e puntata di Unboxing La rubrica dei signori buonasera che vi sta piacendo tantissimo Che sta facendo il record di views in questa stagione 2020 In questa finale di stagione del 2020 Oggi come sentite un po' dalla canzone se lo conoscete parliamo di Sespo Sespo che è uno degli youtuber più famosi e più in voga ormai del momento E con la sua fidanzata Rosalba hanno fatto il loro album delle figurine Eh sì ovvero ormai nella novità su questa rubrica dell'unboxing Facciamo la recensione del loro album di figurine che è appena uscito adesso in tutte le edicole Lo trovate sempre a prezzo di un euro in tutte le edicole con due bustine incluse Ecco qui il loro album delle figurine con all'interno appunto tantissimi sticker E andremo poi anche ad aprire insieme ben adesso guardate un po' Ben 10 eccoli qui i pacchetti delle figurine di Sespo e Rosalba Andiamo ad aprirli insieme Eccolo qui quindi l'album di figurine di Sespo e Rosalba che lo trovate in tutte le edicole Andiamo ad aprirlo insieme Qua intanto nella copertina potete vederla che è lucida e quindi i loro volti sono in risalto E qui abbiamo le foto migliori che sono presenti sui loro canali social di Instagram e TikTok All'interno troviamo eccole qui le loro foto di coppia e poi inizia appunto l'album In ogni pacchetto c'è una figurina speciale e ogni pacchetto contiene 5 figurine E quindi al proprio interno ecco qui insomma come è fatto l'album E' pieno di figurine da attaccare e da scoprire insieme L'album diviso a seconda appunto del loro migliore storia Della loro passione per i viaggi, del loro TikTok Narra la storia d'amore E all'interno c'è anche un bellissimo poster Da riempire sempre con le figurine che dopo staccheremo Se troveremo le figurine da attaccare E poi ecco qua il beauty make up Sono anche disegnati vedete sono dei due disegnati E poi sono presenti anche i loro cagnolini E tutti gli album dei loro ricordi Non vedo l'ora di vedere come sono fatte le figurine Perché lui è l'unico YouTuber di YouTube Italia giovane Che mi piace perché è sempre stato molto coerente E' stato veramente un grande esempio da seguire E quindi questo qui è l'album delle figurine Vi faccio dare anche la copertina sul retro E adesso andremo a vedere le figurine Comunque ad aprire insieme Eccole qui le figurine di Sespo e Rosalba Questi qua sono i pacchetti che trovate Andiamo subito qui a vedere come sono fatte queste figurine Andiamo a vederle insieme Allora vediamo un po' Allora qua ecco qui Rosalba e Sespo Poi Rosalba da piccola Poi sempre una Rosalba Sespo con Gucci E poi eccole qui come sono fatte le figurine speciali Vedete no? Insomma in questa collezione Sono fatte così tutte brillantinose Quindi no do dire che sono belle queste qui Sono migliori di quelle di Elettra secondo me Ecco qua E quindi queste qui sono le prime figurine Ho subito a vedere il secondo pacchetto Andiamo veloci perché sarà una bella unboxing Ma molto veloce Oh eccole qui le foto sempre di Sespo Sempre di Sespo Sespo e Rosalba sott'acqua Eccolo qua Sespo che fa la linguaccia E poi oh molto bella questa qui Guardatelo qua Sespo brillantinoso che ci sorride Eccolo qua Bellissimo Bellissimo Eccolo qua Andiamo a vedere un altro pacchetto Andiamo a dirlo insieme Oddio Qua devo dire che In questi unboxing Sapendo un sacco di figurine Non so se farò poi tutta la raccolta Però diciamo che per l'unboxing Ecco qui Rosalba Rosalba Un altro Sespo Eccolo qua E poi Loro che si baciano E poi Rosalba Che non ho capito cosa sembra Qua è una parrucca Boh vabbè Devo dire che è un po' strana Ecco Pacchetto Andiamo a dire l'altro pacchetto Ho Rosalba Sespo durante il suo primo video Di vlogger per sempre Oh eccolo qua Poi Sespo da piccolo Un quarto di Rosalba Eccola qua Una nuova figurina Speciale Guardate Questa è tutta blu Andiamo a vedere anche un altro pacchetto Eccolo qua Oddio mi è cascato Andiamo a vederlo Eccolo qui Oh Un bellissimo Sespo Metà Rosalba Rosalba Sespo che magna il sushi E ho un'altra speciale Guardatela qua Come brilla Bella eh Ecco un altro pacchetto Andiamo avanti Sespo Sespo in palestra Rosalba Rosalba Con King Sespo Rosalba E poi Oh Credo sia Sespo da piccolo Che carino Ecco Do di la verità Io Questi nuovi TikToker Non è che Tutto youtuber Non li stimo tanto Perché alcuni Si montano la testa Però Invece Lui Soprattutto Do di la verità Che lo stimo Perché è rimasto sempre uguale Nonostante è successo Che ha fatto Un ragazzo Acqua e sapone Semplice Sauridente Trasmette dei Dei buoni valori Insomma Ecco Per i giovani E poi ecco qua L'altra figurina Speciale Andiamo a aprire Soprattutto un altro pacchetto Andiamo a vederli insieme Rosalba Sespo Rosalba Rosalba Oddio mio Qua Rosalba E poi Oh Il loro Angel Il cagnolino Che carino Siamo arrivati Eccoli qua Siamo arrivati Agli ultimi pacchetti Oh Questo qua Me lo ricordo Questo video qui Era un vlog Che facevano Dove dove esistere Nella piscina Sespo e Rosalba Metà Rosalba Rosalba Oh E sespo che mangia Le Le ciambelle Bella questa Questa è carina Terzo ultimo pacchetto Terzo ultimo pacchetto Terzo ultimo pacchetto Rosalba Sespo da piccolo Rosalba Rosalba E poi Oh Una speciale Di Metà Insomma Le gambe Abbiamo Le gambe Prenultimo pacchetto Andiamo a vederlo insieme Il penultimo pacchetto Pronti Oh Eccole qui Le figurine Rosalba Con Pokémon Ah Questa è doppia Questa è doppia Madonna mia Che sfiga Oh Un'altra Rosalba Brillantinosa E ultimo pacchetto Siamo pronti Per andarla a vedere insieme L'ultimo pacchetto E poi le vedremo tutte insieme Quelle che abbiamo trovato Una loro metà Sespo quando era piccolo Ancora Questa ce l'abbiamo già trovata Ah pure questa Ce l'abbiamo già trovata Ho un doppione Ragazzi Qualcuno lo vuole Ve lo do volentieri Scrivetemi nei commenti Chi vuole i doppioni Eccole qui L'album delle figurine Quelle speciali Che abbiamo trovato Eccole qui Eccole Guardate che a me sono belle Tutte brillantinose Di questo nuovo album Delle figurine Di Sespo e Rosalba Che trovate ancora In tutte le edicole Vi consiglio di comprarlo Per chi è fan Del team Del vlog team Dei Valespo Di Sespo Rosalba Di tutti i TikTok Di Q4 Eccetera 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 Quindi Eccole qui Le figurine Di Sespo e Rosalba Che trovate in tutte le edicole E che vi consiglio di prendere E quindi A presto ragazzi Per una nuova unboxing Sempre qui Sul canale youtube Dei signori Buonasera Buonasera